Il Pakistan espelle e l'Afghanistan non fa rientrare facilmente. Le autorità talebane infatti hanno allestito un centro di registrazione e un campo temporaneo per ospitare coloro che ritornano nel paese in attesa di essere registrati, proprio a Torkham, pochi chilometri dal confine con il Pakistan. Procedure che bloccano l'ingresso in Afghanistan. Il Pakistan aveva minacciato di arrestare circa 1.700.000 afghani clandestini se non se ne fossero andati volontariamente entro il primo novembre. Secondo i dati ufficiali, da quando è stato emesso l'ultimatum, oltre 200.000 afghani hanno già lasciato il Pakistan. La polizia pakistana sta arrestando gli afghani clandestini dopo la scadenza del termine imposto dal governo per andarsene. Le organizzazioni non governative hanno chiesto la fine dell'espulsione degli afghani sottolineando che molti di loro si troveranno ad affrontare condizioni difficili nel loro paese e molti potrebbero essere perseguitati dal governo talebano.